La terra continua a tremare nell'alta valle dell'Aterno e i confini tra il Lazio e l'Abruzzo. Le ultime scosse alle ore 5.31 e l'ore 11 di questa mattina, in entrambi i casi di magnitudo 2.0. La ragionevole paura di scosse pericolosa ha indotto molte persone a dormire ancora una volta in auto, camper e container. Disagi per il freddo, ma non ci sono alternative. I tendoni allestiti dalla Protezione Civile Regionale non sono ancora attrezzati per trascorrere la notte. Difficile la situazione anche nel capoluogo L'Aquila. Un'ordinanza e il sindaco ha disposto la chiusura della parte accessibile del centro storico fino a martedì prossimo 7 settembre. E così Piazza Duomo e Corso Vittorio Emanuele, che solo pochi giorni fa erano stati attraversati dal corteo della perdonanza di Celestino V, sono tornati ad essere un'inviolabile zona rossa presidiata dalle camionette dell'esercito. Adesso voi se girate la città non trovate quasi nessuno, perché con il ritorno di questo sisma ubicato un attimino in fuori zona si creano dei problemi e di conseguenza la gente non gira. Stiamo tutti in allerta, tutti imbauriti e stiamo rivivendo, no forse i giorni prima del 6 aprile, forse quelli successivi, perché prima non ce l'aspettavamo quello che poi è avvenuto. Ma di paura è tantissima, è tanta. Non per me perché sono una certa età, ma per i nipoti e anche per i figli degli altri, perché non sono una persona egoista. Molti commercianti, che erano riusciti a riaprire tra mille difficoltà il loro negozio, sono stati costretti ad abbassare nuovamente le saracinesche. Chi, come il barbiere di Via Castello, è stato risparmiato dall'ordinanza, resiste e osserva la sua città deserta come in un déjà vu. Se ogni volta che fa una scossa dobbiamo aprire, dobbiamo chiudere, allora che cosa hanno messo in sicurezza? Niente. A questo punto o lo chiudiamo completamente e lasciamo così, e se no che facciamo? Ogni volta che fanno una scossa chiudiamo il centro storico e tutti gli negozianti che hanno aperto il centro storico, che hanno fatto tutta la pubblicità, adesso stanno senza lavoro come prima.